L'abbraccio della città al campione. Il Giro del Veneto ha reso omaggio a Davide Rebellin, un traguardo volante predisposto in memoria dell'ex campione di ciclismo scomparso a novembre 2022 a seguito del tragico incidente a Montebello Vicentino. Nella frazione di Madonna, davanti all'abitazione, al bar di famiglia Ultima Tappa, striscioni e applausi dedicati a lui. A quasi due anni della tragica scomparsa del nostro campione, la ferita rimane sempre viva, ma altrettanto vivo è anche il suo ricordo, l'affetto e la riconoscenza per quello che Davide è stato per la nostra città. Ma a due giorni di distanza dalla sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti del camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso il campione, i consiglieri regionali Silvia Maino e Marco Zecchinato tornano a chiedere che alla famiglia di Rebellin venga restituita la medaglia vinta alle Olimpiadi di Pechino del 2008 che gli era stata revocata per accuse per le quali fu poi assolto. D'altra parte l'Unigo ha già dedicato una ciclabile, c'è anche un memorial in ricordo di Davide Rebellin. Un grande ciclista, un'icona del ciclismo sia per talento sportivo ma anche per spirito di abnegazione e capacità di soffrire sui pedali in bicicletta che tutti gli riconoscono, anche i colleghi professionisti che hanno corso con lui. Una persona molto amata, un grandissimo ciclista, c'è stata anche una sentenza di condanna e un risarcimento che non ci riporterà indietro Davide Rebellin né a noi né alla famiglia ma comunque un personaggio che va ricordato e per questo appunto con la collega abbiamo ritenuto di portare l'attenzione e la luce su questo grandissimo ciclista. Davide è un esempio anche per i giovani del nostro territorio e ha portato per 30 anni alto il nome del Veneto nel ciclismo in tutto il mondo. Davide ha avuto una medaglia, una medaglia d'argento a Pechino che porta ancora il suo nome, il suo nome è scritto lì e noi vogliamo che Davide abbia questa medaglia. Davide purtroppo non c'è più ma la sua medaglia c'è e noi chiediamo che in tutte le sedi si attivi il Consiglio regionale e la Giunta perché gli venga restituita.